Ecco la funzione sociale dello sportello del cittadino. Un signore, il signor Giovanni Cicarone, ha la figlia affetta da tetra paresi spastica con problemi di incontinenza e gli si dice dobbiamo seguire questo iter nell'ambito della terapia riabilitativa. Per due mesi farai la terapia e per altri due mesi rimarrai ferma. Non riceverai trattamenti di fisioterapia. Due mesi sì e due mesi no. Mi sembra una cosa davvero assurda perché si dice in buona sostanza a una persona per due mesi ti riabiliti e per gli altri due mesi, scusate la franchezza, l'espressione volgare, rimani cionca. Io credo che questa è una strada che non porta a nessuna parte ma che porterà indietro i nostri figli. Noi genitori siamo incazzati, scusate il termine, e non sappiamo più a chi santo rivolgerci. Io sono intenzionato a fare anche azioni dimostrative più pesanti perché non è possibile che dopo aver passato una vita a riabilitare mia figlia oggi interviene un medico e dice che per fatti economici, non per fatti tecnico-riabilitari, per fatti economici io devo ridurti la terapia. Il problema non è solo ridurre, il problema è dire rimani due mesi ferma. Con quei due mesi di stasi si perde tutto quello che in termini riabilitativi si è faticosamente conquistato. Certo, questa è terapia di mantenimento per i nostri figli. Di conseguenza, nel momento in cui tu la sospendi, sospendi il processo di mantenimento. Il ragazzo arretra, quello arretramento tu non lo recuperi più. Allora arretrando, arretrando, arriveremo al punto che i nostri figli non faranno più riabilitazione. Li metteremo in un letto e finché non moriranno. Questo non deve accadere. Io mi metterò in contatto con la direzione generale e senza promettere nulla a nessuno, signor Cicarone, ma cercheremo di condurre insieme questa battaglia di civiltà. Quanto meno per far sì che ci sia una migliore redistribuzione delle ore, delle sedute. È assurdo che per due mesi si dica a una persona, tu rimarrai ferma, rimarrai, lo ripeto, cionca. Dallo sportello del cittadino è tutto, sempre con voi. Grazie a tutti.